Ciao, sono Polidori Giovanni della Pallapolo Macerata. Ci vediamo nei campi, non c'è bisogno di iscrizione e gli orari sono esposti all'entrata. Ciao a tutti! Ciao a tutti, sono Alessandro Digliani, istruttore federale di nuoto qui all'Umana Blue. Organizziamo dei bellissimi corsi per i vostri ragazzi. 6-8 anni, 10 ragazzi, 9-12 anni, 10 ragazzi. Iscrizioni domani mattina al Punto Blue, ore 8. Buon divertimento e buona vacanza! Ciao, io sono Marco, sarò il vostro istruttore nei corsi di difesa personale. Vi aspetto proprio qui dove siete ora, presso l'anfiteatro, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Sono a vostra disposizione, non mancate! Buono! Buongiorno a tutti, sono Dimitri Loewers. Vi aspetto qui al Umana Blue, sul campo da basket, senza iscrizione. Trovate gli orari qui all'ingresso del campo. Venite tutti, ci divertiamo insieme. Ciao, io sono Juan, sarò il vostro allenatore di Padel. Vi aspettiamo a tutti di lunedì a venerdì, qua al campo del Padel, per imparare insieme questo bellissimo sport. Su prenotazione, che deve andare al Punto Blue. Vamos! Ciao a tutti, mi chiamo Ludovico, sono il maestro di tennis. Vi aspetto in campo per imparare questo bellissimo sport, dal lunedì al venerdì. Per quanto riguarda le iscrizioni, potete, anzi, dovete passare al Punto Blue a iscrivervi. Siamo 8 per ogni campo, quindi 16. E niente, vi aspetto qua in campo, per tirare qualche pallata. Vamos! Buonasera e benvenuti all'Umana Blue, anche da parte mia. Io sono Luigi, l'istruttore di calcio dell'Accademy Calcio dell'Umana Blue. Vi aspettiamo al campo di calcetto tutti i giorni, dalle 9.30 alle 11.30 della sera. Quindi si giocherà tantissimo, non c'è bisogno di iscrizioni e il divertimento è assicurato. Ciao a tutti e buona vacanza! Ciao ragazzi, benvenuti qua a Umana Blue. Sono Mauro, insieme a Marco e Gianluca, siamo i responsabili di tutto il fitness all'interno del villaggio. Vi aspettiamo con il fitness vicino alla piscina e con il cross training qui all'interno del teatro. Per qualsiasi informazione rivolgerti a Punto Blue. Ti aspettiamo, ciao! Ciao a tutti, sono Alessio Polucci, insieme a Riccardo Palla. Siamo tutti i giorni qui, da lunedì a venerdì, ai campi da bici dello stabilimento Un'Umana Blue. Non serve l'iscrizione e sono gli stessi orari, le stesse facilità della palla a volo. Ciao a tutti e buona vacanza!